Ingressi scaglionati e trasporti potenziati per permettere a tutti gli studenti italiani di rientrare in classe a settembre. Non ha dubbi il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi quando dice in un'intervista alla Repubblica di voler riportare tutti gli scolari in aula in sicurezza. Con il decreto sostegni di Chiara Bianchi abbiamo già dato 150 milioni alle scuole per la sicurezza sanitaria. Adesso in accordo con il generale Figliuolo stiamo facendo ripartire le vaccinazioni per tutto il personale scolastico. Siamo al 70% e a settembre avremo tutti vaccinati e sarebbe in arrivo anche il vaccino per gli adolescenti. Per la ripartenza occorrerà avere tutti i docenti in cattedra ma sono oltre 200 mila gli insegnanti precari. Si parla di sanatoria anche se Bianchi smentisce la sua intenzione di farne una. Il suo obiettivo è arrivare a un sistema a regime con concorsi annuali. Altro nodo della ripartenza sono le classi Pollaio, problema che riguarda in particolare le superiori dei grandi centri urbani. La riduzione del numero di studenti per classe fa parte di un nuovo disegno del sistema scolastico. Noi continuiamo a chiedere che le classi cosiddette Pollaio 27, 28, 30 alunni siano veramente un residuato da mettere da parte. Notiamo che ci sono molte buone intenzioni e speriamo che queste buone intenzioni siano seguiti da fatti concreti proprio per rendere la scuola importante per i nostri giovani e soprattutto perché loro possono essere adeguatamente formati pur superando questo periodo difficile di circa uno o due anni in cui la didattica è stata un po' uno stop and go.